Il rito delle tavole di San Giuseppe ritorna con le sue tradizioni più antiche in quei comuni del Salento dove l'amore e la devozione riempie le case e prende forma con le famose tavole dedicate al santo, quando le porte delle abitazioni si aprono e le grandi tavole imbandite si offrono. Niente è lasciato al caso, il rito disegna e detta perfettamente la natura delle pietanze, il numero delle portate rigorosamente dispari, assegna il posto ai commensali, stabilisce le regole per la biancheria e le decorazioni floreali. In quattro comuni questa tradizione è sentita in modo particolarmente profondo e questo ha portato ad unire le forze nel nome del GAL Terra d'Otranto e a creare percorsi comuni che sono stati spiegati domenica a Casa Pasca, Cocumola, frazione di Minervino. Il 18 e il 19 marzo i momenti clou, quelli dedicati al santo con iniziative che attendono visitatori da tutto il Salento e anche oltre nel percorso che si snoderà tra Minervino e le sue frazioni Giordignano, San Cassiano e Uggiano la Chiesa. A Minervino poi abbiamo il 19 e la grande tavola per cui avremo un ospiti d'onore quali il prefetto di Lecce, sua eccellenza Giuliana Perrotta, il vicario del prefetto, l'autoressa Pirre Ramatilde e anche altro personaggio illustre, il nostro oncologo locale, il professor Seravezza. Noi come GAL abbiamo pensato appunto di promuovere questo evento che non è soltanto un evento religioso, culturale e sociale ma lo abbiniamo anche alla promozione dell'enogastronomia, quindi la promozione dell'enogastronomia del nostro territorio e del turismo. Vogliamo bene a San Giuseppe il santo silenzioso, il santo che aveva una concezione tutta particolare del tempo come ci ricorda Don Tonino Bello. La tradizione e noi in questi anni come amministrazione comunale l'abbiamo valorizzata, il pane di San Giuseppe, quel pane grande a forma di ciambella, la cosiddetta ruota, per noi il simbolo della pace e del rapporto col Mediterraneo.